In tanti hanno provato a rianimarlo in attesa dell'ambulanza, chiamata più e più volte. Ambulanza che è arrivata a Bitonto su Via Perrese dopo ben 25 minuti dalla chiamata d'emergenza. C'è un uomo a terra, un anziano, ha avuto un arresto cardiaco. Ma il maestro di musica, 79enne Cataldo Valerio, non ce l'ha fatta e ha perso la vita circondato dai tantissimi che si erano precipitati sul posto per aiutarlo. Da un medico di uno studio lì vicino ad un'infermiera di passaggio, da un agente del commissariato fuori servizio ad un volontario dell'NPC Bitonto. Si sono tutti alternati per soccorrere l'uomo e praticare il massaggio cardiaco utilizzando anche il defibrillatore installato qualche tempo fa sulla vicinissima piazza della Noce in dotazione ad una farmacia della zona. Sgomento e scomporto da parte della città intera che si è ribellata sui social gridando allo scandalo. Il nostro ex ospedale non può essere ridotto a solo punto di primo intervento territoriale, dicono i bitontini. Abitiamo in un paese di oltre 65.000 abitanti senza considerare anche le città limitrofe e non è possibile non avere un pronto soccorso attrezzato per le emergenze. Quello che è accaduto è inaccettabile, dovremmo tornare in piazza a scioperare, concludono. Solo due giorni fa un caso analogo si era verificato a Ruvo di Puglia, dove a perdere la vita per un arresto cardiaco è stato un uomo di 55 anni.